Si è svolto presso la sala polifunzionale della provincia di Teramo l'incontro del Comitato Istituzionale del Sisma 2016, composto dai 23 comuni del cratere sismico, le amministrazioni provinciali di riferimento e Regione Abruzzo. Appuntamento molto atteso perché è stato approvato l'ultimo piano stralcio delle opere pubbliche che diventerà subito operativo grazie alla nuova ordinanza del Commissario per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia, Giovanni Legnini. Il Comitato è stato molto importante perché ha approvato l'ultimo piano stralcio di quest'anno delle opere pubbliche per un intervento complessivo di 140 milioni di euro, 115 derivanti da due piani della struttura commissariale e 26 sono il residuo di un fondo della Camera dei Deputati che è stato destinato all'Abruzzo. Abbiamo utilizzato la piattaforma Sose per individuare gli interventi da finanziare e la Regione Abruzzo, credo l'unica nell'Appennino centrale, ha deciso di privilegiare l'esaurimento di alcune categorie ritenute strategiche. Abbiamo dato completa soddisfazione a tutti i municipi del cratere e del fuoricratere danneggiati dal sisma e molti edifici strategici. Per Teramo nell'incontro sono stati ufficializzati i fondi per la riapertura del Museo archeologico. Il Comune incasserà altri 10,6 milioni di euro tramite l'ultimo piano di ripartizione dei fondi per la ricostruzione pubblica post-sisma. La somma che rientra tra i finanziamenti messi a disposizione dalla struttura commissariale per gli interventi di regenerazione urbana serviranno a riparare i danni causati dalle scosse tra fine 2016 e inizio 2017 e a garantire l'adeguamento sismico dello storico edificio di Via Delfico e non solo. Adesso con le risorse stanziate sul Museo archeologico potremo completare la riqualificazione complessiva di tutto il patrimonio, del patrimonio culturale, 10 milioni e 6 che comunque ci consentiranno di intervenire per restituire uno spazio importantissimo per la città sotto l'aspetto culturale ma anche uno spazio che all'interno contiene ad esempio la Sala San Carlo ed è fondamentale come spazio vitale per la città di Teramo che ritroverà quindi attraverso queste risorse un luogo fondamentale per la cultura. Non dimentichiamo anche gli ulteriori 5 milioni e 6 per i cimiteri, in particolare i cimiteri trazionali stiamo lavorando grazie anche agli interventi di semplificazione che come sindaci abbiamo ottenuto grazie al lavoro del commissario Legnini.